Con l'inizio della fase 2 il primo problema che salta gli occhi è quello relativo alla mobilità dei cittadini. Napoli e la Campania stanno sperimentando con grandi difficoltà le nuove modalità di trasporto sia pubblico che privato. Distanziamento obbligatorio, ingressi contingentati sui mezzi e tutela della salute di utenti e operatori rappresentano una questione prioritaria a cui non si è stati in grado di rispondere efficacemente. Il fiume di persone scese dal treno della cumana lunedì scorso, le tensioni e le proteste degli extracomunitari sulla tratta M1 a Piazzale Tecchio dimostrano che non siamo ancora pronti a convivere con il coronavirus. Poi c'è il settore dei noleggiatori, bus turistici, le scuole guida, il noleggio nautico, categorie per le quali il presidente della Confesercenti Napoli, Vincenzo Schiavo, ha chiesto risposte immediate alla regione Campania. Il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, si è detto cosciente del problema e ha assicurato che la regione sta individuando un percorso per sostenere anche queste categorie. Tra i più danneggiati a Napoli ci sono i tassisti che sono tornati in strada ma sono fermi. È una perdita perché noi siamo dalle 6 stamattina in mezzo alla strada e abbiamo fatto una corsa. Non ce la possiamo prendere con nessuno però purtroppo ci dovrebbe essere una soluzione ma non c'è perché il nostro lavoro è basato sul turismo. Allora noi il distanziamento ce l'abbiamo, abbiamo montato delle parete di plastica antifiato ma a spese nostre però. Qualcuno, qualche cooperativa le ha messe gratis ma sono plastica normale e poi tutto il resto noi, igienizzanti, maschere. La cosa che voglio dire è la cosa che noi siamo stati un po' abbandonati dalla regione di questa cosa qua. Anche quando abbiamo iniziato a lavorare siamo scesi senza niente, senza mascherine, senza guanti, senza protezione. Cioè tutto questo ce l'abbiamo fatto noi.